ciao a tutti salve e benvenuti e benvenuti al canale scrittore male mi raccomando iscrivetevi a questo canale lasciate un like e un commento condividete visitate il mio blog è la recensione di cui stiamo per andare a trattare la trovate in immersione scritta nel link in descrizione seguitemi su tutti i soldi a facebook e instagram trovate tutto il link in descrizione ascoltate i podcast che mi raccomando sono la cosa più importante nel me perché è la cosa che sta andando un po meglio e in cui mi ritengo essere più bravo detto ciò dopo avervi detto di iscrivervi eccetera eccetera mi raccomando sentite e guardate anche gli altri video mi raccomando e fatemi sapere la vostra dei commenti comunque allora negli ultimi giorni ho ascoltato il nuovo disco di salmo flop ed era da un po' di tempo che non l'ho riascoltato che non l'ho ascoltato e non l'ho riascoltato c'ho la luce nel braccio come se fossi un dio guardate un angelo comunque a parte le cazzate che non penso che siano legate al riflesso della luce nonostante fuori ci siano più nuvole allucinanti allucinogene ma questo è un'altra nuvole allucinosa metti un like per nuvole allucinogene scusate il mio divagare ma questo è il problema la luce dovrei risolverla in qualche modo guardate ragazzi guardate là c'è un angelo non niente anche con le teppelle abbassate c'è la ruba per questi cazzi guardiamo quindi dopo le cazzate che abbiamo sparato del nuovo disco di salmo e quello che sto dicendo è che non ho ascoltato i nuovi dischi ma non ho mai dato un ascolto approfondito perché non mi esaltavano particolarmente devo dirlo e poi non li dovevo recensire invece in questo caso ho dato un ascolto approfondito e nella recensione che dovreste scritte e quello che sto per fare in questo video potete leggere e guardare una mia opinione a 360 gradi comunque partiamo alla prima traccia che mi è piaciuta abbastanza che è antipatico che in realtà è simpatico che è una buona traccia in cui cominciare una buona ritorzione una delle rime delle frate che mi è rimasta per gli italiani tutto il zocco è da mia mamma mi sono messo a sorridere e ho detto già da questo sto cominciando ad affezionarmi dal disco diciamo e poi se le cose non si devono giudicare la copertina la copertina del disco di salmo è ispirata a una opera d'arte abbastanza famosa che era la figura l'angelo caduto lucifero e tu dici beh potesse possesse, possesse, possesse un cliché nella mia recensione scritta ho fatto una specie di rima su questa cagata cliché è molto più bello comunque andatela a leggere in link in descrizione allora, però magari uno dice eh vabbè sarà effettivamente un flop poi tra l'altro la copertina dell'album non so quanto centri effettivamente con il titolo dell'album fino a quando non te lo sendi attualmente mi piaceva la criminale che è la quarta, sì sì, no la terza la quarta traccia andiamo a vedere tanto chi se ne sbatte no è la terza ok, la terza traccia di del disco e mi è piaciuta è così facile essere normale io non sono come te non sono un criminale criminale che secondo me questo traccio no è un po' una specie di un po' anche un po' scherzoso un po' sarcastico un po' ironica critica diciamo nei confronti delle nuove eleve di tutti quelli che si fanno muovi criminali pi 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 ma sono tutti criminali effettivamente e quindi invece sono normale come lui riclamasse la sua invece la sua origine di personale normale che si è messa a fare ed è diventata famosa effettivamente poi belle tracce comunque carine c'è le basi c'è chi ottiene con noise che spacca che c'è il bull noise che è sempre sempre potente con questi due diciamo mostri l'hardcore anche se per me l'hardcore è quello più pure quello più underground quello che non avrà ma anche se ha la fama non la stessa enorme grossa fama come quella di questi due però sicuramente noi riconosciamo la roba buona roba non lo so poi c'è scritto a questa quando l'ho sentita la prima volta non mi avevo reso conto di intrappola e la chiave che erano collegate infatti quando la traccia è finita io stavo pensando che che era sempre la stessa che andava avanti che poi è finita in cui c'è poi nella chiave c'è stata anche Marrakesh prima c'è la chiave poi e prima c'è la trappa scusate e poi c'è la chiave che la chiave per uscire è sempre l'ultimo nell'ultima tasca l'ultimo razzo di chiave una cosa del genere adesso non vi ricordo la rima andatela a leggere nel link in descrizione o quella andiamo a leggere qua il kitchener chissime potte molto bene allora sentiamo no sentiamo un cazzo mi dispiace spiace 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 andate per sentire la loro canzone non lo rompete del cacchio a me avete capito avete capito scherzando ovviamente però non mi ricordo la rima ma più o meno il concetto era quello lì dopo questi qua parti da Kumite questa canzonetta d'amore che rispetto alle altre tracce ha detto che cosa ci fa questa qui perchè effettivamente uno si spiazza e SPIОZZE e si spiazza no si SPIAAZZE e si spiazza SPIAAZZE e si spiazza SPIAAZZE SPIAAZZE e si spiazza SPIAAZZE vabbè, si spiazza nel senso che questa canzone è una canzoncinetta d'amore carina però dico una cosa non avevo fatto attenzione in altri casi per me Salmo non è il migliore per fare queste canzoni d'amore soprattutto se bene ci metti quelle robe pesantucce urgenti e poi a un certo punto diventi smielato e romantico oddio non è che devi fare tutto il disco in un modo, l'amor di Dio però forse è uno stacco un po' troppo grande carina però non è che mi sia esaltato particolarmente diciamo chiaramente poi in questa parte del disco effettivamente non è che mi sia piaciuto più di tanto c'è questa parte che ho appena citato poi le altre così così carine però a differenza delle precedenti e delle seguenti che adesso andiamo a vedere guardate se posso dire c'è stata questa qui che scusate un attimo io non mi ricordo il titolo registro i video senza ricordare ecco Marla che per me è stata una schifo c'è una canzone smeliatissima che a un certo punto dice ma non è che l'ha fatta apposta forse sì perché io non mi ricordo non mi ricordo gli altri schifo li dovevo andare a riascoltare mea culpa che non sono andato a riascoltarle mi sono concentrato solo su concentrata mi sono concentrato solo su questo e quindi la questione è questa la questione è questa quindi per il momento ho potuto concentrarmi su questo però ho detto ma non è adatto cioè questa canzone è uno schifo non ci sta più di tanto quindi l'ho bocciata direttamente o sono passata direttamente all'altra alla successiva la successiva che è Angelo Caduto che è stata la mia preferita dell'album che anche se questa anche qua è un po' leggero un po' roba però asprime dei concetti un po' un po' più forti il ritornello è splendido e la voce di diciamo che si chiami Shani questa qua scusate andiamo a vedere di nuovo andiamo a vedere di nuovo chi se ne fotte tanto Shani non Shani vabbè sì siamo Shani siamo a The Witcher siamo siamo a The Witcher siamo ma che sapete voi vabbè e poi il disco diciamo che finisce si arriva alla traccia che si chiama flop che è la penultima che dice lo so che sono un venduto e lo so che faccio che gli ho deluso come per dire che si aspettava un po' che a un certo punto arrivassero magari i critici che è un po' come le biglie e i dicessi che è un flop e non è un flop è un buon disco ha delle buone tracce che è abbastanza carine ci sono quelle belle e ci sono quelle che non mi hanno entusiasmato diciamo che mi hanno fatto un po' schifo ma questo non significa che sia un flop ma come potete leggere nella recensione il link in descrizione e lei ha messo il mio blog dove scrivo tante robe interessanti recensioni poesie schifezze no schifezze oddio dipende dal punto di vista dipende dal punto di vista comunque è da un bel po' di anni che a mio modesto parere Salmo non ha fatto secondo me un passo in avanti vero e proprio cioè il vero Salmo rivoluzionario fu quello dei primi album e non dici tu eh vabbè è stato in quel momento e basta sì magari sì però ci sono un sacco di artisti ma un sacco ci sono alcuni che dopo essere diventati un po' più famosi hanno dato un po' una cosa in più hanno fatto notare la loro maturità in modo molto più forte dei Salmo per me uno dei tanti uno dei tanti uno dei pochi uno di quelli che mi viene in mente è Marrakesh per me rispetto ai premi album ha fatto 20 passi al gigante secondo me poi vabbè ognuno le sue opinioni ovviamente quando stiamo a buttare merda sul Salmo stiamo cercando di fare un'analisi a 360 gradi ovviamente invece invece per me o almeno adesso a fare in tutti gli album successivi di di Alan Censure Massacre and Dead USB, non mi hanno mai dato, ahimè, quella cosa all'incerti è, oddio, ecco un altro capolavoro di Salmo, ecco un altro no, cioè sembra che sia rimasto nella sua, ah, come ti dire, squadra che vince non si cambia, e invece un attimo no, cerca di cambiarla, non dico che fa schifo, però, cioè non c'è, a parte quella, l'ha giocaduto, con questa Shari, un cazzo di email, scusate, non c'è stata una che mi ha dato più di tanto, cioè, carine le tagge, magari me lo riascolto, dico shippala, perché è un shpac, forte, frigo, però secondo me manca quella componente per dire che c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri, e c'è ben poco diverso rispetto agli altri, ed è per questo, questo mi ha ricordato il motivo per cui io Salmo un po' l'ho abbandonato, beh, esattamente per questo motivo, perché i lavori successivi ai primi hanno mantenuto la stessa identica cosa, ma non hanno dato quella cosa che dice, ah, ecco, c'è qualcosa in più rispetto a prima, c'era l'evoluzione che passava, per me non c'è stato, per me non c'è stato, c'è stato veramente, ma poco, 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 e lui Salmo, va bene, magari se sta a sbattere, ci sta assolutamente, però, questo è il mio potere, questo è il mio potere, anche, che cerchi di essere il più oggettivo possibile nelle critiche, e magari l'ho fatto più in mezzo di scritto in mezzo di video, tra l'altro questo video uscirà nello stesso orario, in cui c'era anche la retenzione scritta, quindi, ditemi voi, fatemi sapere la vostra opinione, io darò un sette e mezzo, comunque, questo non merito, perché comunque, a parte tutto, è comunque un buon lavoro, anche la qualità c'è, questo non si mette in dubbio, è l'unica cosa, ve l'ho già detto, questa qui, domani, detto questo, domani, se le vittime si sorge, eccetera eccetera, ci siamo posti di video che non ho idea di quale ma forse forse è quello di a ruota del sabato o forse vediamo se mi viene in mente qualche altra idea di portare su questo canale. In differenza di altre recensioni non ho messo la musica perché c'è la questione di copyright, io non ho capito quante canzoni puoi mettere o meno, ma comunque non è neanche necessario, diciamo che questa è una cosa molto più umana, non c'è bisogno di mettere la musica, però io sognerei prima o poi di portare un podcast o una trasmissione di online, in cui parlo di musica e in cui magari c'è una cosa molto più figa, cosa che forse non accade mai, chi lo sa, devo solo avere abbastanza di nero per pagare la siae, ovviamente, magari non è un cacchio, però è meglio farla quando sai già. Vabbè, a parte questa mia riparazione su uno dei miei vari sogni e obiettivi, ci vediamo alla prossima. Ah, questa maglietta di Danio da Europa, in realtà l'ho messa perché era sulla seglia, perché sono esquintuta e non ce ne frega niente adesso. E CIAOOOOOOI!